65. Essere maggiore. Chissà che cosa sta facendo mio padre che è trapassato molto tempo fa. Commento. Non dovresti dire che sta facendo mio padre, ma che sta facendo quello che resta di mio padre. Perché? Perché il sentire di tuo padre si è fuso con sentire affini a quello di tuo padre. E di tuo padre, per come lo conoscevi tu, resta molto poco, tanto che tu non lo riconosceresti. Tuo padre è diventato un essere maggiore.